Sì, sicuramente è un inizio che mi ha semplificato le cose perché comunque la prima partita dopo tanto tempo dall'inizio un po' la sentivo. Bene, bene, che sia iniziata così con un approccio per noi fondamentale che deve accompagnarci per il resto della stagione. Poi dal tuo piede è arrivato anche il pallone per la testa di Marconi, il 2-0 che di fatto ha chiuso la partita, anche se poi c'è stato da soffrire fino in fondo. Sì, diciamo che negli episodi sono riuscito ad entrare bene, magari non è stata una partita di grossa continuità da parte mia, però infatti devo ringraziare i miei compagni che hanno sopperito forse la mia negligenza fisica che arriverà presto al top come condizione e un buon esordio da titolare. Senti, per la squadra una vittoria pesante, importante soprattutto per la classifica? Non so, a dire la verità, come siano andate le altre partite, adesso le guarderemo in pullman. Per noi è importante vincere, poi una volta che facciamo risultate e prestazioni noi, poi andiamo a guardare la classifica e volta per volta vediamo un po' dove arriviamo. Senti, i tifosi del Pisa ti stanno scoprendo settimana dopo settimana, partita dopo partita. Quali sono le tue caratteristiche principali? Trequartista, ma sei un giocatore anche in grado di giostrare in altre zone del campo? Sì, è una costante nella mia carriera il fatto di aver cambiato tanti ruoli. Sono sicuramente un giocatore offensivo, non avere troppi vincoli. Mi trovo bene sull'esterno perché comunque negli anni l'ho ricoperto varie volte quel ruolo lì. Ho fatto la mezzala l'anno scorso ed è andata bene. Trequartista secondo me è il ruolo che mi lascia più libero. Sta tutto nell'entrare, nei meccanismi e negli automatismi di questa squadra che sono ben rodati e chi arriva fa un po' più di fatica. Però con le prestazioni così sicuramente mi aiutano molto. Senti, per il tuo concetto di calcio, più soddisfatto del gol o dell'assist? L'assist. È quello che cerchi diciamo nel corso della partita? Sì, è la cosa che mi piace più fare. È ovvio che sono tra virgolette più importante i gol però in tutta la carriera mi è sempre piaciuto più fare l'assist. Sì, è vero.